Prima seduta per la nuova commissione consigliare che si occupa del monitoraggio e della valutazione degli obiettivi del PNRR. Presieduta da Catello Maresca, consigliere di opposizione, la commissione è stata istituita lo scorso 26 gennaio. Partire dal monitoraggio che ha una funzione non tanto di vigilanza, a me non piace la parola la vigilanza, ma piuttosto quella di garanzia, cioè garantire prima di tutto ai cittadini che i percorsi siano chiari, limpidi e non vengano infiltrati da quelli che sono pericoli costanti alle nostre latitudini che sono rappresentati da corruttela, infiltrazione camorristica e quant'altro. I membri della commissione rappresentano i diversi gruppi politici presenti in consiglio comunale. è programmata a breve una nuova seduta che servirà per esaminare un primo gruppo di progetti. Più del 60% di questi fondi dovrà essere restituiti, cioè andranno a bilanci ad aggravare il peso economico del bilancio napoletano che oggi non è in condizioni di grande salute. Quindi questi soldi dovranno creare sviluppo, dovranno creare occupazione e dovranno essere anche da volano per tutte le altre attività che facciano crescere la comunità napoletana.